Partite, prima batteria ha preso il via ed eccole arrivate al traguardo Partita, seconda batteria con stigli da parte dei tecnici a porto campo ultime fatiche e tagliano il traguardo un applauso, forza pubblico presente qui a Sione Ok, hanno preso la via anche queste nuove prove delle nostre cadete siamo alla prima sette per loro velocissime, volate che spri grazie Salvatore per l'elogio che mi hai regalato mentre raggiungevo la costruzione Ok, partite, guardate che grigia che tirano fuori tirano fuori veramente tutta l'energia velocissime queste cadete Filici ormai sono filici maturi belle atlete con grandi prestazioni Allora come fate spazio e passeggio la che cosa Grazie perché Raffaella vuole essere dirigente. Ok, partite questa volta, andate bellissime, guardate, guardate che velocità, siamo nelle punti e qui anche un pochino, sarà un po' la voglia di rilusione, non mi pare, però se l'abbiamo fatta alla fine. Ok, andate anche loro, bravissimi questi atleti, guardate che velocità, bel scatto, infatti il baleno vuole poco, vedo tanti colori sociali, ok andate anche loro, guardate che è stato di velocità, i velocisti sono immediati a sbagliare il tuo guardo, sono già libera, li li, pochi altri riflessioni, col calore del pubblico a scaldare fuori, animi, mente e corti. Ok, dai, velocissime, c'è la seta, l'olio di un'altra, l'olio di un'altra, l'olio di un'altra, l'olio di un'altra, ok, anche tutte le altre, devo sottogirsi eh, l'atletica va di non caldittore, ma se voi faccio parte anche. Ok, l'ha preso via, l'olio di un superiore batteria, guardate che è stato di più tra l'olio, ma veramente un alternante di giochi. Ok, se l'ha fatto anche loro arrivati, giudizio di gara l'ha preso. Bravo! Sì! Ok, finito i cadetti, i maschietti, mentre compartite le nostre ultime cadette, bravissime! Grazie! 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 Grazie!